In nomine Patris e Filii e Spiritus Sancti, Amen. Benedetto sei tu, Signore Gesù, nostro Dio, nostro Re, nostro Redentore, nostro tutto. Con un cuore pieno di gratitudine ci accingiamo a fare questa nuova meditazione. Anzitutto è come sempre riconoscendo la nostra vicolezza, miseria, indignità e l'assoluta imperfezione dinanzi alla tua onesta divina, alla tua grandezza, alla tua santità. E invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti in questa meditazione. Deus mea estudo corde beniter mea omnium, non ero un peccator, o mea quede testor, che peccando non sono un pena sati just e statuta al pomerito sun, se presenti qui offendi te, summum bonum ad dignum, qui super omnia di di garis. Ideo firmiter propono adiuante grazia tua, decedro menon peccatorum, peccandique occasiones proxima sfuggitorum. Deus mea estudo corde beniter mea omnium, non ero un peccatorum, mea quede testor, che peccando non sono un pena sati just e statuta al pomerito sun, se presenti qui offendi te, summum bonum ad dignum qui super omnia di di garis. Ideo firmiter propono adiuante grazia tua, decedro menon peccatorum, peccandique occasiones proxima sfuggitorum. Amen. Veni creato spiritus mentes tuorum, visita, imple superna grazia, cui tu creasti pectora, qui dice risparacitus altissimi donum dei, fons vivus ignis caritas espiritualis sunxia. Tu septiformis monere, digitus paterne dexter, turrite promissum patris, sermone di ta scultura, accende l'uomen sensibus, infunde, amoren cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti, ostem repellas longius, facenque dones protinus, Doctore, sic te preio, itemus omne noxium, per te sciamus la patrem, nos camus atque filium teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo patrisit lori, ac filo pila mortuis, surrexit, ac paracritum secolorum secula. Amen. Emitte spiritum tuum, et crea vuntur, et renovabis, faci en terre. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo, di sua ormali a Cecilia Bai, libro quarto, capitolo primo, ciò che opera il figlio di Dio nel suo interno, dall'istante che è partita Nazareth, andò a Gerusalemme al Tempio, per dar principio alla sua predicazione, fino a che fece il ritorno in Nazareth, per cui di predicare e rivedere la sua diretta madre. Decima parte. In occasione di una solennità nel Tempio, il sermone del grande giorno della festa, sfogo con il padre nella solitudine dell'orto, e intima unione con la madre. Giunse intanto il giorno di una solennità nel Tempio, che in alcuni giorni dell'anno si celebrava, o qui si riferisce, come viene detto in nota, alla festa delle capanne che durava otto giorni. E questo appunto è il discorso nell'ultimo grande giorno della festa, di cui San Giovanni parla al capitolo 7, versetto 37. Ed io tutta la notte pregai il padre, affinché permettesse che tutti i dottori, gli anziani, i sacerdoti, i ministri del Tempio, si trovassero nel Tempio insieme. Predicando avrei potuto far conoscere ad essi l'errore in cui si trovavano. Il padre intanto si sarebbe degnato di illuminare le loro menti, affinché conoscessero la verità della mia dottrina. Chiesi anche che tutta la gente che vi si fosse trovata fosse stata ammaestrata riguardo a quello che avrei predicato. Vi promise di farlo il padre E quantunque vedessi che per alcuni sarebbe stato cosa inutile, non di meno lo feci, perché non vogli tralasciare nulla di ciò attraverso cui essi potevano prendere occasione di ravvedersi. Giunto il giorno festivo, ed essendo donati al Tempio una gran moltitudine di gente, Anche Forestiera e tutti i sacerdoti e ministri e dottori, terminate le solite cerimonie della legge, feci io la mia predica. Tutti quelli che hanno sede vengano a me e bevano e dai loro seni usciranno fiumi di acqua viva. Tutti attonidi si posero con molta attenzione e grande silenzio ad udirmi e i maggiori sacerdoti non poterono uscire, perciò furono costretti a stare qui anch'essi ad ascoltarmi. Feci la mia predica con mirabile sapienza, con modo e grazia più divina che umana. Infatti la divinità che a me era unita alle volte era più palese. Restarono perciò molto attoniti gli uditori, non avendo mai inteso un simile parlare. Tutti ammirati e stupiti. Solo i maggiori fremevano e la passione rodeva le loro viscere. Nonostante conoscessero che ero vero figlio di Dio, perché la luce del Padre e la mia divina sapienza li convincevano della verità. Eppure, ostinati più che mai, tutto disprezzavano. In questa mia predica feci conoscere a tutti chiaramente che in me vi era la fonte della vera sapienza e colui che fosse venuto a dissetarsi a questa fonte sarebbe restato riempito di grazia, di luce e di sapienza, in modo che avrebbe potuto parteciparne anche ad altri. Con gli esempi e con gli insegnamenti si rese tanto ammirabili a tutti questa mia predica che ognuno magnificava la mia persona ed esaltava la mia celeste sapienza. Mentre io predicavo ed invitavo a venire a me a dissetarsi con le mie parole, gli accompagnavo anche gli inviti interni indirizzati a quelli che mi orivano, specialmente alle anime semplici. Anche il Padre mio vi concorreva con la sua luce. Con la sua grazia. E perciò costoro si sentivano attirati ad appressarsi a me e mi guardavano con amore e desiderio di seguirmi. Fu lungo questo mio ragionamento, fatto con grande fervore e desiderio che tutti venissero da me per essere istruiti e consolati. Non si saziavano gli uditori di mirarmi, dato le mirabili attrattive che scorgevano in me, e l'ammabilità e la grazia con cui parlavo. Ad essi sembravano veloci momenti le ore in cui io predicavo, tanto era il gusto e la consolazione che portava ad essi la mia parola. vi era però questa differenza. Alle anime semplici che stavano in grazia, essa faceva gustare una dolcezza e un gusto di spirito, giubilo di cuore, inesplicabile, col desiderio ardente di seguirmi. Le anime invece che stavano in disgrazia le animava a ricorrere con fiducia alla Divina Misericordia, col desiderio di mutare vita, col proposito di emendarsi dai loro errori. Le anime superbe le atterriva e faceva conoscere ad esse la loro viltà e bassezza, infondendo nei cuori il loro spirito di umiltà. Le anime avare desideravano di staccarsi da tutto e di vivere in povertà e così succedeva per tutte le altre inclinazioni. Tutti essa convertiva e tutti illuminava, facendo conoscere chiaramente la verità che io praticavo. Tutti questi più ammirabili effetti causavano la mia parola in quegli uditori ed ognuno li sentiva, ma molti dei più perfidi li disprezzavano e più che mai si indurivano nei loro errori. Questi fra gli altri erano i maggiori, i sacerdoti del Tempio. erano costoro come tante spade che trapassavano il mio amoroso cuore che li bramava tutti i pentiti e arrabbeduti. Non credere, sposa mia, che io non le predicare che facevo con tanto zelo circa la gloria del padre mio usassi violenza perché vedevo la perfidia, la durezza e l'ostinazione di quei cuori duri. lo facevo sempre con maggiore grazia, affabilità e amore invitandoli con amore alla penitenza. Ed anche quando predicavo pregavo il padre per essi. Terminata la mia predica vennero quasi tutti da me per essere di nuovo ammaestrati e consigliati ed io davo a tutti gli opportuni rimedi secondo le loro necessità e in modo mirabile e senza strepito consolavo tutti. Alcuni mi dicevano di volermi seguire altri di voler ritornare come infatti facevano molti che spesso tornavano a me per essere istruiti. Non vi era in me accettazione di persone trattavo tutti allo stesso modo tanto i poveri come i ricchi anzi accarezzavo più i poveri e dicevo a tutti pubblicamente che io li miravo tutti come figli del mio padre celeste senza eccezione ma che i poveri e i semplici erano da me più amati perché erano più simili al figlio di Dio che era già venuto nel mondo e vivevano in estrema povertà o milta e semplicità. Quando io dicevo questo si infuriavano i superbi perché erano pieni di malizia e di ambizione non potevano soffrire di sentire che mi sia promesso fosse venuto il mondo in forma di servo e che vivesse in povertà e umiltà perché essi cambivano il fasto e la grandezza. Terminata la predica e soddisfatti tutti quelli che si erano appressati a me e resi le grazie al mio Dio in Padre e supplicatelo secondo il solito uscire al Tempio essendo l'ora tarda me ne andai all'orto per passarvi la notte conforme a come ero solito in orazione e in preghiere dando breve riposo alla mia umanità non vi era alcuno che mi seguisse in questo luogo perché volevo stare solo per sfogare col Padre mio la pena che mi amareggiava il cuore per l'ostinazione dei sacerdoti scribbi e farisei e degli altri che si lasciavano da essi ingannare perciò sfogavo la mia pena con infuocati sospiri e porgevo calde suppliche al Padre per la salvezza di tutto il genere umano gradiva molto il Padre questa mia orazione e per le mie suppliche tratteneva il castigo che più volte avrebbe dato a quei perfidi devi sapere sposa mia che in tutto quel tempo che stetti in Gerusalemme a predicare e insegnare alla folla non mi dimenticai mai della mia diretta madre che si ritrovava nella sua solitudine pregando continuamente per la conversione di quei cuori duri ed ostinati tutto le era noto ed in spirito tutto vedeva e udiva penetravano continuamente il mio cuore le sue voci amorose e da lei ero molto consolato le parlavo ancora io continuamente al cuore e la consolavo e animavo a proseguire con le sue preghiere a favore del genere umano era molto tempo che stavo lontano da lei perciò bramava di rivedermi e quantunque potessi fare ciò senza partirmi da qui tuttavia una mattina andai per tempo al tempio a fare la mia solita predica e dopo partì per Nazareth per andare a trovare e consolare mia madre con la mia presenza giunto il giorno dovevo andare permesso al padre mio perché non facevo cosa alcuna senza il suo beneplacito così avevo fatto sempre ma ora che ero tutto impiegato per la gloria sua e non più soggetto alla madre come fu nei trent'anni precedenti il padre voleva che stessi tutto impegnato per lui e soggetto a lui solo mostrando di essere suo vero figlio me lo permise il padre ed io di ciò lo ringraziai in tale occasione lo preghi per tutti i miei fratelli affinché desse loro tanta grazia che a mia imitazione si mostrassero in tutto e per tutto soggetti al suo volere anche in quelle cose che sembrano naturalmente convenienti chiesi di dar loro luce da conoscere che quantunque siano applicate alle cose di suo servizio e di gloria sua devono alle volte consolare quelli che dicono bisogno siccome si applicano a procurare la salvezza del prossimo e la consolazione degli altri si devono anche ricordare della salvezza dei congiunti e consolarli nelle loro afflizioni senza che patiscano delimento gli altri perché con la grazia divina può la creatura riuscire a tutto e portare a tutti sollievo e consolazione mi promisi il padre di dare ai miei fratelli tutta la detta grazia particolarmente a quelli che ad imitazione mia intraprendono un tale ufficio e di ciò gli resi le dovute grazie no dentur jesus et maria bene andiamo verso la conclusione di questo capitolo credo che domani riusciremo a concluderlo quindi con la partenza di gesù per nazareth e poi alcune ulteriori considerazioni che però sono domani sugli iscriviti e farisei e su quello che combinano nell'occasione della partenza di gesù ora ci occupiamo di oggi e cominciando da una prima considerazione questa è utile per capire un po' come opera dio e utile anche per capire come dobbiamo operare noi dinanzi a certe situazioni credo in maniera particolare questo sia un monito prevalentemente ma non solo rivolto ai sacerdoti alle persone che in qualche modo sono come si dice in cura d'anime ossia la prima considerazione che gesù ha fatto bene aveva intenzione di fare questa predica in occasione appunto della solennità di questa festa auspicava che ci fosse un grande afflusso di persone specialmente dei potenti delle caste religiose dell'epoca perché voleva fare un bel discorso provocandone sperando di indurli a conversione però essendolo dio non poteva ignorare che questo sarebbe stato fiato sprecato fatica sprecata e punto questa roba qui ma spiega quantunque vedessi che per alcuni sarebbe stato cosa inutile non di meno lo feci perché non vogli tralasciare nulla di ciò attraverso cui essi potevano prendere l'occasione di rivedersi questo l'abbiamo già visto diverse volte per chi insomma segue il mio articolato forse eccessivo postolato chi lo sa come dice che è un po' però non riesce a starmi dietro però io fino a quando posso semino poi il signore saprà quali animo indirizzare se c'è qualcosa di buono chi dove e come no però questa cosa è uscita diverse volte nella catechese che peraltro sarà questa sera sul mistero di giuda cioè e questo ci fa anche capire perché molta gente non capisce alcune cose ma scusa ma se Dio sa che succederà questa cosa questa cosa non succederà mai che preghiamo a fare che ci impegniamo a fare non è così non è così non è così che non dobbiamo assolutamente pensare così ce lo dice qui il signore perché come per Dio la conoscenza infallibile dei futuri necessari così si chiamano tecnicamente perché negli eventi futuri San Tommaso li distingue in due specie li chiama i contingenti necessari e i contingenti possibili è una terminologia un po' tecnica un fatto contingente si dice così diciamo così per parlare corretto anche un po' filosofico il fatto contingente è un fatto appunto che ci può essere quello come ce ne potrebbero essere altri 10 milioni differenti d'accordo io tra un'ora che posso fare posso fare la telefonata posso andare a fare una passeggiata posso confessare posso cedere la messa cioè non mi dico tanto qualcuno però quello che io farò alle 12.05 di questa mattina e 30 secondi Dio lo conosce cioè lui sa come pensate secondo per secondo della vita di ogni essere umano esattamente che cosa accadrà ok come se non bastasse lui conosce questi si chiamano i contingenti necessari ora la conoscenza dei contingenti necessari non produce due cose che la gente pensa togliere la libertà non affatto perché questo dipende dalla prescienza di Dio ma non togli affatto che tutte le mie azioni saranno perfettamente liberi o primo secondo non paralizza l'azione della divina provvidenza cioè Dio nonostante la conoscenza certa che ha lui conosce già le anime che saranno dannate per esempio ma ma secondo il nostro modo di parlare lui fa come se non lo sapesse nel senso che ti darà tutte le grazie necessarie sufficienti per ravvederti e per conseguire la salvezza d'accordo perché perché si possa vedere come tu sei libero veramente e come lui ha fatto tutto il possibile nel rispetto della tua libertà per salvarti questo vale sia per il giudizio particolare che per il giudizio universale non so se mi spiego ma vale anche perché domini Dio non si farà dire da nessuno questo l'ho detto tante volte ah tu però se avessi fatto questa grazia in più io l'avrei accolta e non mi sarei dannato questo nessuno potrà dirlo e quindi Dio non gli opporrà dice ma guarda fratello figlio mio io non te l'ho fatta perché tanto sapevo che tu ti saresti dannato qualcuno potrebbe dirgli lo dici tu cioè devo fare un atto di fede anche nella tua onniscienza ma io non ce ne ho la dimostrazione guardate che queste cose sono molto più importanti di quanto pensiamo molto più importanti di quanto pensiamo perché poi ci devono anche far regolare nei rapporti col prossimo per esempio sapete a me quante volte mi sembra che su tante cose sembra veramente tutto inutile cioè che tu intervieni parli fai operi e tanto sembra che non serva a niente attiva la tentazione di dire lasciamo perdere no non lasci perdere si va avanti come come se tu non ci avessi come dire ma tanto non serva a niente continua a sperare perché non si sa mai questo vale anche per la nostra vita no perché le cose possono sempre cambiare c'è una vita che sto lavorando su questo difetto su questo problema tanto non cambio mai quindi non è così non è così vai avanti perché non è detto non è affatto detto prendi tutti quanti gli aiuti che il signore ti continuerà a dare e magari cerca di farli funzionare un po' meglio applicati un pochino di più cioè la considerazione rigorosa e attenta di questi misteri è fondamentale io ho intenzione forse molto presto di fare qualche intervento un po' chiarificatorio ed esplicatorio su alcune cose connesse alla divina volontà perché come già ho accennato se certi concetti sono fraintesi mal compresi e soprattutto mal applicati è la stessa cosa della falsa misericordia tale e quale cioè quella cosa anziché diventare un bene diventa un male a livello soggettivo come quando uno va a farsi la comunione senza essere in grazia di Dio cioè la retta e corretta comprensione di alcune cose comporta poi una modalità di agire a livello pratico che è importante io adesso non vorrei fare una cosa troppo difficile ma il nostro agire segue l'essere si dice in filosofia cioè se tu non hai capito bene cioè hai capito fischio per fiasco poi agirai in maniera strampalata dannosa quantomeno erronea sicuro a volte anche è peccaminosa mi spiego e così Gesù quando predicava sta gente anche questo è un monito indiretto a tutti i predicatori diceva lontano nonostante che rivedessi così e io non usavo violenza quindi il linguaggio violento aggressivo va bandito usavo sempre la pagatezza la dolcezza cosa dice la grazia l'affabilità e l'amore si dice anche nel parlare comune che la calma è la virtù dei folli tutti siamo tentati ogni tanto di partire per la tangente non bisogna secondarla questa cosa perché diceva un saggio papà di un mio amico d'infanzia lo ricordo sempre per questo motivo che la 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 sapienza e l'umiltà parlano l'ignoranza e la superbia urlano ok non c'è bisogno di assumere toni aggressivi violenti mai certo ogni tanto uno come dire anche Gesù ogni tanto era un po' più infervorato d'accordo ma sempre mantenendo la misura perché non serve lo sappiamo anche noi non è che se una persona ti flaggella in maniera violenta o furiosa ti disponi meglio a volte ti indisponi ancora di più fermo restando che la flagellazione ricordiamo anche gli episodi precedenti avviene da un punto di vista di contenuti perché la flagellazione adesso adesso la la vedremo il secondo importante punto di meditazione no lui predicava e predicava dice ho fatto una grande predica e quali erano gli effetti di quello che dicevano le anime nelle anime disposte chiaramente questi effetti andavano in porto nelle anime non disposte se ne tornavano a casa un elenco molto interessante e significativo cioè 1 le anime che stavano in grazia premessa sentire quelle prediche provocava una dolcezza e gusto di spirito giubilo di cuore inesplicabile desiderio ordente di seguire questo possiamo anche così capire come stiamo messi noi perché dinanzi all'ascolto di una buona predica poi sono sempre le anime ben disposte ma perché però non stanno in grazia però sono ben disposte quindi quella predica è cosa produrrà la conversione le anime che stavano in disgrazia le animavano a ricorrere con fiducia alla divina misericordia attenzione col desiderio di mutare vita e col proposito di emendarsi da loro errori vedete che desiderio di mutare vita è proposito di emendarsi dagli errori perché senza questo non si fa nulla allora 1 le anime superbe le atterriva la sua predicazione quindi non è che quindi non era come dire una pilloletta allo zucchero no le atterriva e faceva conoscere la destra la umiltà e bassezza infondendo nei cuori il vero spirito di umiltà la nostra umiltà e bassezza questa riguarda tutti riguarda guai a chi se ne dimentica quindi primo vizio capitale secondo vizio capitale l'avarizia le anime amare desideravano di staccarsi da tutto e di vivere in povertà sappiamo chi sono le anime amare no quindi l'avarizia è il vizio capitale complesso ho scritto un libretto su questo perché l'avarizia comprende in sé anche la cupidigia che stava proprio nel Vangelo della Messa di oggi guardate che tenetevi lontane da ogni cupidigia perché anche se non è l'abbondanza la sua vita non dipende da se bene la parabola del ricco stolto perché la cupidigia è il desiderio cupiditas in latino significa proprio appunto brama desiderio di cosa dei beni temporali e l'avarizia è la tendenza all'accumulo e a trattenerli tutti solo per sé questo è l'avaro quindi a non spenderli tra l'altro nelle forme patologiche di avarizia non solo l'avaro non li dà gli altri e li accumula ma vive come un pezzente nel senso che non spende ma con centesimo per sé per cui diventa veramente cioè una macchietta ma io vi assicuro che io ho conosciuto gente di questo con la paura pur avendo conti a 5 o 6 e 0 ok quindi si parla di centinaia di migliaia o milioni di euro ha fatto una vecchiaia gramma privandosi di tutto morendo lasciando patrimonio del genere senza figli ma guardate cioè quando si vedono certe cose si vede proprio veramente la bruttezza del vizio del male del peccato perché ci dicono è da pazzi purtroppo però il peccato ci porta alla pazzia ecco nelle forme di conversioni proprio di chi gli viene proprio il disgusto basta attenzione abbracciare la povertà non significa ipso facto abbracciare l'indigenza assoluta come quella di nostro signore Gesù Cristo d'accordo perché si può essere evangelicamente poveri anche possedendo dei beni imparando ad amministrarli saggiamente e santamente non tutti sono chiamati a lasciare tutto questo può dare che nessuno provengano gli scrupoli e le paturnie così succedeva per le altre inclinazioni qui fa gli esempi no e tutti questi più ammirabili effetti causavano la linea corona in quei veditori ed ognuno li sentiva il problema è che quando uno non è disposto mentre a queste persone le convertiva e le illuminava gli altri semplicemente li rendeva più duri di quanto già erano purtroppo ecco dopo di che Gesù torna di nuovo a Gezzemani abbiamo visto di nuovo pregare per le spade che gli trafiggiavano il cuore cioè l'ostinazione dei cuori inconvertibili e ci abbiamo questo piccolo finale diciamo grazioso dove Gesù decide dopo l'ultima predica di tornare a Nazareth e qui rimane un po' così nel senso che va a chiedere il permesso al padre anche qui facendo un'operazione che serve sicuramente sicuramente anche come esempio per noi perché qui si avrà un campo anche nelle cose lecite convenienti attenzione 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 le paturnie perché questo è molto difficile questo qui per noi poveri mortali quindi questa cosa conveniente diciamo quello che possiamo fare è dirglielo al Signore se c'è qualcosa in contrario magari fammelo capire perché almeno per quanto mi riguarda non è sempre facile discernere anzi nell'ambito delle cose lecite che cosa vuole il Signore noi io ricordo bene il libro della sapienza lo citavo tante volte chi può conoscere il colore del Signore chi può immaginare cosa vuole il Signore lo possiamo sapere però a parte il fatto che le luci con cui il Signore illumina ispira chi veramente intende conoscere non a chiacchiere con la lingua dice San Giovanni ma veramente la sua volontà gli arrivano uno poi seconda cosa è un'esortazione rivolta anche qui in particolare a chi sta in cura d'anima non trascurare le persone vicine tu stai convertiti tutti quanti però se c'è qualcuno delle persone a te vicine che ha bisogno non trascurarlo trova il modo trova il tempo è chiaro che una persona che è dedicata non può occuparsi full time di familiari e affini però ci può far scappare un po' di tempo per avere a cura anche questo dice proprio Gesù dice devono capire che qualunque siano applicate le cose al servizio divino e per la cosa divina alle volte devono consolare quelli che di ciò hanno bisogno appunto tra i prossimi siccome si applicano a procurare la salvezza delle prossime e la consolazione degli altri si devono anche ricordare della salvezza dei congiunti e consolare le loro affezioni senza però che patiscano detrimento degli altri ed è una cosa molto bella la conclusione di Gesù che è anche la conclusione della meditazione dice ma vado al manicomio come faccio arrivo a tutto non ce la faccio non è vero con la grazia divina può la creatura riuscire a tutto e portare a tutti i soldi a consolazione certo quello io raccomando sempre anche a me è la buona organizzazione per quanto possibile del tempo arrivare a tutto non significa che se io mi impongo come dire degli obiettivi esorbitanti eccessivi arriverò a tutto perché sono alcune cose che veramente uno non ce la fa ci vuole sempre un ordine e una misura cioè la calibrazione giusta dei tempi degli spazi non ci schiara non perdere tempo però il tempo stesso ogni tanto non si deve anche un attimo abbassare i giri darsi una calmata prendersi un momento come dire istendersi rilassarsi ricrearsi ho sempre detto che pure un amore asteri c'è sta un'ora di ricreazione al giorno perché non possiamo stare sempre in tensione però anche questo l'ha fatto con misura perché 7 ciondoli per 2-3 ore perde un sacco di tempo quindi dobbiamo essere sempre vigilanti e attenti tenendo sempre come obiettivo l'equilibrio la giusta misura che non ci sono ricette un po' dopo la diretta non mi dire qual è la giusta misura la giusta misura è la devi trovare tu cioè devi legarci sopra e dentro il tuo contesto di vita dentro la tua situazione di vita dentro il tuo concreto habitat quello che fai cioè per esempio una persona che vive in una parrocchia di 700 abitanti quella vivo io non è la stessa cosa di uno che c'è che a Roma parroco di una parrocchia di periferia di 50.000 abitanti quindi è chiaro no? se io stessi a far parroco 50.000 abitanti ma le meditazioni mattutine catechali serali non esistono proprio capito? non sarebbe possibile non sarebbe possibile a meno che non trascurassi proprio di fare completamente il parroco capito no? quindi vi dipende una persona che vive sola per scelta è diversa da una persona che è sposata e ha sette figli e questo 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 cioè dovrà che ci vuole la scienza infusa per capire queste cose no? però certo la vita cristiana è impegnativa quindi nessuno ci ha promesso come dire il riposo nel senso di ozio qui in questo mondo questo non esiste d'accordo? il giusto riposo sì dobbiamo prenderlo ma il giusto riposo se uno dorme dieci ore al giorno la notte insomma è un po' troppo ma anche lì il giusto riposo è calibrato perché dobbiamo vedere qual è per noi il giusto riposo quindi essere capaci di discernere quando si è troppo poco e quando è troppo e quindi ci sono dei parametri diciamo così orientativi che se sarebbe da direttore spirituale quante è la misura di sonno per un adulto i direttori spirituali dovrebbero sapere nei monasteri e nei conventi il numero è sette ore tra le sei e le sette non di più per un adulto perché ero come un ragazzotto un bambino lo sanno tutti insomma anche otto o nove ore potrebbe anche scendere questo numero potrebbe variare a cinque e mezzo a cinque in certi casi quindi dipende lì bisogna vedere la persona che fa che non fa come sta come reagisce come cioè tante cose ecco comunque la cosa importante è che teniamo presente che con la grazia di Dio si può arrivare a tutto quello che il Signore guarda da noi evidentemente dentro un orizzonte di vita ordinata ed equilibrata quindi senza né strafare ma anche senza purtroppo cincischiare ciondolarsi e perdere tempo che quella è una cosa che piano piano con l'aiuto della grazia dobbiamo cercare di sistemare con l'aiuto della grazia ringraziamo anche oggi te signora Gesù per tutto quello che ci doni per gli esempi che ci dai per le esortazioni che ci rivolgi per le sollecitazioni vedete c'è camminare sempre con il cuore aperto ecco è disponibile salvaci soprattutto con la superbia e concedici sempre lo spirito di la vera umiltà che è veramente ciò che ci salva da tantissime cose che non vanno da tanti pericoli e da tante stupidaggine e da tanti peccati magnificat anima mea dominum texultavi spiritus meus in deo salutari meo qui a respexit tu meditati nella città e su ecceneo ex hoc venata medicent omnes generazioni qui a fecit michi magna qui potenze stet santo nome neus misericordia eius a progeni progeni stimenti usseum fecit potenzia in braccio su disperzi superbosmente i cordi sui deposito parentes esedet exaltavit humiles esurrientes in plevit bonis et divites dimisit inanes su scepitis rael puerum sum ricordatus misericordia sua sicco trocutus est a padres nostros abraham e semineros in secola gloria patria figlio e spirito i santo sicuterrati in principio nonché sempre e in secola sicuro l'oro ame agimus tibi grazia sonnipotens neos pro universis beneficis tu iscrivesti regnes in secola sicuro ame deus et nobis un pace in vita et et amen rodento jesus et maria os control e benedicat virgo maria